Il Football Club Vigliano comunica di aver ufficializzato l'arrivo del tecnico Glauco Pertel sulla panchina della prima squadra. Allenatore dotato di grande esperienza, il Cobra, questo è il suo soprannome, ha diretto il Gaglianico in prima categoria, e la Chiavazzese dove ha vinto una storica Coppa Piemonte, centrando anche l'accesso al campionato di promozione. È stato anche allenatore della Juniors regionale della Biellese. La situazione che eredita sulla panchina del Vigliano è questa. Ultimo posto in classifica, due punti totali frutto di due pareggi e 15 sconfitte, nemmeno una singola vittoria. Peggiore attacco con 14 centri realizzati e, a causa dei 51 subiti, 3 netti a partita, anche la peggior difesa. Il penultimo posto dista 9 punti, la salvezza diretta addirittura 18. Ora per lui si presenta una nuova possibilità per mettere in luce le sue potenzialità. La società mi ha cercato e ho subito accettato. Ha detto, mi piacciono le sfide impossibili, ma ciò che più mi ha convinto è la progettazione futura. Ci sono tutte le componenti per ricostruire basi e fondamenti importanti. Il progetto tecnico mi ha stuzzicato particolarmente e ci sono anche i presupposti per operare bene. Non ci troviamo in una bella posizione in classifica, ma è ora di tirare fuori l'orgoglio. Ha sottolineato ancora il mister, vedo un grande impegno da parte di tutti i giocatori e staff. Sono tante le componenti che portano al risultato finale. Al momento l'atteggiamento è buono sia in allenamento sia in campo. Manca il risultato che arriverà. Un pensiero va anche alla società vigliano. Ringrazio le persone del presidente Paolo Daniele e del direttore Tiziano Turetta per la loro fiducia.